se c'è una considerazione che voglio fare subito sul milan targato pioli perché poi si parla tanto di questo milan targato pioli non del milan milan a cimino si parla del milan targato pioli perché è la squadrale nata da da stefano pioli e in tutti questi anni del milan di pioli anche forse soprattutto nei momenti più difficili nei punti più bassi se ne esce montagne russe scivoloni intemperi acquazzoni non lo so metteteci il clima tutto quello che vi pare eppure in qualche modo se ne esce un po la storia di queste ultime tre partite della squadra rossoneri ce lo dice chiaramente no vai sopra vai sotto sali scendi montagne russe eppure quando pensi che sia finita è proprio lì che inizia la seconda cazzatina a parte una squadra comunque resiliente ecco questo questo voglio dire perché anche in questo momento dove no sai la classifica dice che andare a guardare in alto non è neanche semplice se mila se se juventus e inter non rallentano guardare sotto ancora meno più 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 marginale perché il divario è abbastanza largo e il quinto posto al momento in proprio impensabile quindi è una stagione dove sai devi trovare le motivazioni le deve le deve trovare gara per gara e milan sai oggi ti può ti può anche andare male perché l'ennesima partita in cui prendi gol ne prendi altri due ci sono assolutamente ed evidenti difficoltà che comunque nonostante la vittoria poi ne discutiamo e eppure non ci stanno e in qualche modo te la vogliono te la vogliono ribaltare c'è riuscito oggi c'era riuscito col bologna poi una cappellata clamorosa del del difensore nel finale e ha negato la vittoria c'era stata con l'udinese sopra sotto e poi di nuovo ribaltata quindi è una squadra che ripeto nonostante tutto non ci sta a comunque anima ragazzi e quindi è una roba che bisogna mettere in conto bisogna assolutamente mettere in conto e poi bisogna dire che chi entra risulta decisivo è quello che entra più di tutti ultimamente e jovic e fa gol anche a parte che fa gol che è una roba che a inizio stagione era quasi impensabile tutti tutti ragazzi credo pochissimi 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 sono rimasti lì sul carro di del povero jovic perché era qualcosa di di osceno perché aveva perso evidentemente feducia in in se stesso vista magari le ultime le ultime annate poi arriva al milan anche il milano prende proprio all'ultimo giorno così sai per perché non riesce a prendere altri prendi jovic e quindi sembrava una una proprio debacle scontatissimo invece questo qua adesso ha preso pian pianino appunto sicurezza dei propri mezzi e non dico che sia quello dell'eintracht ma forse levato a quella stagione là è il miglior jovic di sempre levato a quella stagione là che secondo me forse è raggiungibile che difficilmente ripeteremo quel giocatore là magari sì magari no non lo sappiamo però dopo siamo siamo c'è subito sta è il miglior jovic di sempre levato quella quella parte importante lì è decisivo decisivo quindi magari qualcuno già penserà è perché magari non gioca con le due punte non non è semplice perché comunque a tanti a tanti giocatori tre tre quarti tante tanti giocatori che prediligono no partì dall'esterno magari a centrarsi lo stesso layout di netto se tu gioco con le due punte o gioco con 4 2 4 come hai fatto oggi sostanzialmente quindi un pochettino portandoti avanti altrimenti le auto devi panchinare e sulle auto discutiamone perché sempre quello messo in discussione ma poi alla fine dei conti cioè se se gioca le auto ci sono occasioni c'è poco da fare possiamo stare qui a discutere da qui fino a non lo so fino a quando vi pare a voi ma se gioca le auto c'è superiorità numerica è il giocatore che magari ti fa becca ti fa becca quel rigore la quello di oggi in alcune situazioni può essere indolente quello che mi pare ma poi alla fine è sempre lì che si accende la palla per per giro è magica un paio di sgasate un paio di dribbling secchi e c'è poco da fare un giocatore secondo me troppo determinante anche se gioca paradossalmente al 30 40 per cento è sempre un giocatore che secondo me un minimo sposta ditemi quello che che vi pare e in tutto ciò do non sottovalutare il ritorno di benasser secondo me quando entra benasser e prende no le redi le redini del centrocampo è un giocatore che secondo me l'ho detto tante volte e in mezzo al campo è il migliore indiscutibile del milan ed è tra i migliori della della serie a tranquilla tranquillamente quindi sui giocatori che 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 sono sono interessanti che un giocatore non determinante e come dicevo prima merito sicuramente di un grandissimo frosinone parliamo anche del frosinone che senza nessun problema si presenta con tanti giocatori offensivi da ruì a sec sulle che facciamo qua ennesima partita tra l'altro incredibile caio giorgi quindi con quattro giocatori votati votati all'attacco ha fatto una ottima partita il frosinone ha messo in serie a difficoltà il milan la ribaltata dopo essere andata sotto ha fatto ha fatto vedere tante tante belle cose e sfruttando anche nel secondo tempo secondo me sul gol di mazzedelli che è un giocatore che va preso assolutamente al fantacalcio perché adesso che è ritornato da infortuni e cose giocatore incredibile ma ha sfruttato delle palesi amnesie difensive e ci aggiungiamo adesso forse possiamo dirlo una stagione non dico non esaltante di megnan perché megnan anche questo è un grandissimo portiere però iniziano a essere un pochettino iniziano a esserci delle incertezze di megnan è perché quel gol la cioè io ricordo che megnan è il portiere che ti fa guadagnare i tre punti spesso e soprattutto nell'anno in cui il milan ha avuto lo scudetto megnan è secondo me ha portato tranquillamente ma proprio tranquillamente 10 punti in più al milan ma proprio tranquillamente e adesso non mi pare più quel portiere là anzi ci sono partite in cui è in in difficoltà e quindi questo secondo me dobbiamo metterlo in questo momento in cui la fase difensiva del milan non è brillantissimo vuoi per assenza vuoi per una cosa vuoi per un altro ci aggiungiamo secondo me anche megnan è che al momento non è proprio centrato al massimo ecco mi sembra giusto dirlo visto proprio il valore del portiere che è qualcosa di clamoroso perché megnan è talmente forte che giustamente se qualche sbavatura che giustamente si può anche permetterci mancherebbe altro però la dobbiamo segnalare e nonostante ciò ripeto il milan è riuscito in qualche modo a ripartarla ripeto non ho citato neanche tanto caforma ne ha di giocatore che il milan può buttare dentro la panchina e comunque è una vittoria che adesso in attesa di inter juventus il milan può è può strizzare un po l'occhio però devo essere sincero deve risolvere i problemi difensivi e deve sperare che inter juventus un po perdano perdano colpi non solo in inter juventus dove inevitabilmente una delle due o entrambe perderanno magari i punti però almeno deve deve settare un po la fase difensiva altrimenti è difficile ed è impensabile poter pensare di di essere lì per per lo scudetto però queste vittorie senza ombra di dubbio fanno bene e come se fanno bene soprattutto se pensiamo al fatto che stanno lì tutti ad aspettare un momento il momento propizio per attaccare pioli e pioli e pioli e pioli e intanto il milan comunque e sta lì stabile al terzo posto ha creato un divario con le altre sotto e quindi io non sarei così no come posso dire distruttivo nei confronti di della squadra targata stefano più fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate le carte se volete iscrivetevi al canale un grande abbraccio dai siccome dai sicuro no